ciao a tutti e bentornati con una volta su indigan play ita oggi siamo su vrench un gioco che agoniavo da tantissimo tempo e devo ringraziare il grandissimo ivan di pietaro perché un pomeriggio me lo ha regalato e lo ringrazio e lo abbraccio veramente tanto perché sempre davvero molto gentile con me e ripeto non dovevi il gioco è veramente interessante lo andiamo a vedere è un gioco che sarà padroneggiato nel giro di diverse diverse ore perché è davvero complesso questo è un tutorial in cui andiamo a vedete qua c'è la road map quindi con tutte le evoluzioni potenzieranno in questa fine del 2019 la carriera e poi avremo verso la fine dell'anno l'inverno di quest'anno la possibilità di utilizzare le auto anche nelle gare perché cosa facciamo in questo gioco in questo gioco andiamo a riparare le automobile in questo caso vedete che possiamo andare a fare diverse cose io vi faccio vedere adesso quanto è complesso questo gioco con un tutorial come montare il diciamo il la coppa dell'olio il gioco non esente da difetti questo assolutamente perché il gioco è comunque doppiato in in inglese con un sintetizzatore vocale cosa che non è assolutamente il massimo allora qua abbiamo un motore ed è il motore che ho montato nei tutorial precedenti dovete tenere conto che vedete abbiamo tutti i pezzi e i pezzi possiamo prenderli farli cadere perderli fortunatamente viene in nostro corso il tasto z che è una sorta di avvolgico so e premendo nuovamente lo z più il sinistro del mouse andiamo a buttare la vite per fare attenzione perché tutti i pezzi si possono poi prendere ruotare vedete e poi far cadere quindi bisogna è un gioco che si presta molto anche per il gioco in VR questo è il motore come vedete possiamo anche andare a farlo ruotare veramente fatto da dio è come my summer car sarebbe dovuto essere con uno sviluppo più intenso e la cosa interessante è che vedete abbiamo queste questi tool che sono degli avvitatori dal classico trapano avvitatore insomma a quelli diversi più piccoli meno potenti più potenti che cosa succede poi possiamo andare a montare un scusatemi possiamo andare a montare un supporto per poter avvitare più in profondità che è un extender vedete e ogni mezzo ogni prodotto alla esigenza ogni vite ha l'esigenza di essere avvitata in modo diverso nel caso in cui almeno qua nel tutorial dovessimo rompere qualcosa ci verrà rispedito sentiremo un campanello suonare troveremo una scatola li e troveremo il pezzo nuovamente disponibile se succede invece in in partita in carriera insomma dobbiamo acquistarne un altro col tablet si può andare ad acquistare vabbè quasi possono qua è la acquistare pezzi di ricambio dettagli poi la logica sarebbe quella di riparare delle auto che poi si mandano a fare gare o si mandano al noleggio qua abbiamo il controllo del di questo il bello che all'inizio la prima missione di gioco in assoluto del tutorial ci fa montare questo tavolo quindi praticamente noi dobbiamo aprirlo tirarlo fuori dalla scatola con tutto il suo imballo e andare poi sotto con la ci vedete ci abbassiamo dovuto avvitare queste viti qui che adesso vabbè non possiamo più non possiamo più svolta smontare allora installa the oil pickup tube con il suo gasket che dovremmo capire ma sul la pompa dell'olio allora la pompa dell'olio vedete è brutto che è scritto in bianco quindi bisogna mettersi su una no io voglio levare queste cose no 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 allora chiedo scusa la q dov'è la pompa dell'olio allora questo è l'olio il pan e va bene questo è lo stick perfetto e questo probabilmente si andranno ad attaccare insieme ma non tocco niente il filtro dell'olio e l'olio il cooler che è quello che va a rinfrescare l'olio pressure plate clutch disc il disco della frizione e così via proviamo a girare il motore ok no buono no buono proprio per niente quindi giriamo il motore e cerchiamo di capire mannaggia me pesa perché poi a sollevarlo pesa cerchiamo di capire come che ok così si ruota ok cerchiamo di capire dove questa maledetta pompa dell'olio magari poi ho girato il motore non dovevo però cerchiamo di capire o il pump eccola qua scusate ma devo girare vorrei girare il motore in modo ok così allora lo il pump lo il pump è questa allora lui dice prendi il l'olio il pick up tube install del pick up tube lo facciamo insieme in modo che vediamo come funziona o il pick up tube eccolo qua con il suo gasket che è questo allora vediamo non me lo fissa magari prima devo fissare questo no allora niente riprendiamo il motore ruotiamolo così cerco di ok e lo mollo qua ok ho il pump che è questo pezzo qui allora proviamo a montare questo il gioco ci dovrebbe dire esattamente dove va messo quindi di lato poi si impara insomma noi non siamo ancora imparati quindi eccolo lì me lo stava dando eccolo lì ho perfetto vedete che ce l'ho appoggiato lì si è semplice è molto più semplice che in che in my summer car me lo mette rosso quindi c'è la possibilità che io devo ammettere prima questo infatti lo metto lì lo aggancio qua e poi due viti mi dice che vite no ma dovrei poter andare a vedere qui show part di solito su alcune su alcune parti vedete possiamo andare a vedere con che vite deve essere agganciata vedete sono un pirla perché potevo per la subito questa guida allora si avvita con due viti lunghe quindi in questo caso andiamo a prendere due viti lunghe che però niente sono queste quindi vedete che le andiamo a prendere e non sono queste mi sembra un po troppo lunghe la verità allora allora con il il suo gasket installa il front and rear sears vabbè saranno queste si è sicuramente ok messa giù una messa giù l'altra a questo punto prendiamo io non so ipotizzo lo facciamo poi ci sono varie potenze si fa tutto con questo tasto con le frecce sinistra destra invece con la rotellina del mouse avvita e svita vado ad avvitarla eccola lì 50 non è perché si è rotta la vite si è rotta adesso suonano vedete che arriva io adesso provo ad avvitarla a 45 poi ovviamente non si va a caso dopo un po si impara io ovviamente del tutorial non mi ricordo una cifola però diciamo che dopo che diventa arancione direi che potrebbe anche andare bene vabbè niente 45 no facciamo 40 e non esageriamo facciamo 40 e poi non esageriamo ovviamente qua andiamo ad aprire si tiene premuto si strappa lo scotch la vite si apre e me la piglio allora in questo caso è scomoda perché si cammina sempre piano quindi premo shift e coro vado tiro fuori il tool avvito quando diventa un pelo arancione smetto almeno siamo tranquilli allora adesso questa scatola è arrivata male quindi dobbiamo ruotarla eccola lì ok aperta prendiamo la vite ci alziamo corriamo e lo avvitiamo allora tool avvita a livello di suoni a livello di di pezzi è veramente pazzesco come gioco allora abbiamo avvitato l'oil pan quindi questo non si stacca più install the front and rear oil pan seals to their location on the oil pump and rear ok quindi praticamente dobbiamo mettere dei sigilli davanti e dietro quindi non è questo oil pan no si parla di sigillo però sia al stick tube no ho fatto il danno ascolta l'oil pan lo mettiamo qua il motore lo voglio tirare su si poi sarebbe già andato avrebbe già bucato probabilmente il pavimento comunque va bene allora si chiama front and rear oil pan seals e oil pan seals sono questi eh infatti front and rear e do cacchio è il front and rear cerchiamo di capire cerchiamo di capire on the oil pump and rear men seal order on the oil pump ok sulla pompa dell'olio che pompa dell'olio e qua mi spiace di tediarvi con questo con questo con questa cosa ma lo voglio proprio giocare insieme a voi giusto magari per stimolare qualche animo creativo come me che rear no front eccola lì una e la seconda non ho idea di dove vada andrà dietro qua no se una va di qua l'altra andrà dall'altra ah proviamo a fare una cosa scusa io premo questo ok ok molto semplice io ho lavorato per un breve periodo in officina ed effettivamente funziona proprio così eh nel senso che si vanno a vedere le guide auto per auto allora una l'abbiamo messa lì voglio ristudiarmi di nuovo allora una va lì e una va là ok front and rear il problema è che non capisco dove va il secondo quindi adesso io piglio il motor di qua lo prendo e lo giro così ok allora uno l'ho messo lì e l'altro va di là il problema è che non me lo mette perché non me lo mette ok adesso me l'ha messo ha delle viti? no no è solo una protezione così finally install the windage tray on the engine block windage tray che sarebbe in fondo il windage tray è questo ok che è la copertura del motore io vi garantisco che l'altro giorno che ho giocato era molto più immediato nell'agganciarsi probabilmente sto andando un po' io ok fatto install the oil pan seguito da tutte le 18 viti e non mi fa cadere il motore ok ok 18 viti a questo punto io mi domando ma sta vite che forza ci vuole il bullone più piccolo ci vorranno 35 proviamo un 35 usiamo il pump il 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 questo e la vitiamo magari al massimo una trentina si prendo metto via prendo la vite inizio a fissare le 18 viti qui si allora messa anche questa qui proviamo ad avvitarlo allora c'è un tasto che non mi ricordo più qual è che è il l'auto avvitamento automatico non lo ricordo attacchiamo questo quasi rotta ok sta per diventare rossa e non esagero ok ok dice che dobbiamo mettere anche queste vite lunghe voglio però vedere dove vanno adesso che ormai sono sghamato e no ah mannaggia questo me lo diceva 10 o più o meno 20 per cento quindi 10 12 nm di forza all'avvitamento ok quindi in questo caso facciamo 11 dai ma voglio capire dove si avvitano queste cose perché eccola lì una una e due quindi la seconda va qui prendiamo il nostro tool che abbiamo lasciato lì fluttuante dovrebbe in teoria arrivare al massimo infatti vedete che ha smesso avvitato avvitato probabilmente adesso non ci sta dicendo niente perché non stiamo avvitando correttamente no c'è la notifica ecco vedete cosa succede in questi casi ci siamo dimenticati una vite infatti adesso è giusto perfetto va beh installa l'oil drain plug dipstick tube dipstick oil cooler vabbè ed è oil drain plug oil drain plug scusa questo è infatti questo è infatti direi che ci sta nella coppa eccolo lì infatti allora questo andrà qua dentro infatti questo non ho idea di dove vada ma vabbè questo andrà qua sopra perfetto e scusate questo dove va no 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 va lì ok per il filtro dell'olio che tra l'altro in effetti mi domando dove sia finito il filtro dell'olio vabbè il filtro dell'olio dove era era di dietro un attimo fa vabbè vabbè no dov'è che va mannaggia il filtro dell'olio si attacca di lato eccolo lì qua molto bene ah no eccoli qua ehm oil cooler perchè non me lo fa mettere? perchè devo mettere questo pensate che vedete la figata la figata è che no vedete in questo caso anche nel montare i pistoni se montate la testa del pistone senza il perno che lo tiene legato non lo montate più in questo caso va montato così e poi chiuso credo no questo va montato lì ah va avvitato però ok e questo poi va montato sopra perfetto abbiamo montato completamente il motore complete tutorial complete tutorial in questo caso abbiamo completato tutto quello che dovevamo fare c'è questo tasto qui non premelo perchè fa esplodere la macchina ai mille pezzi quindi insomma vabbè riceveremo adesso vabbè possiamo andare direttamente nella pagina nella home insomma c'è l'ultimo tutorial che praticamente si chiama la testa del motore sono i tempi e l'olio quindi praticamente l'olio dovrebbe essere uno degli ultimi uno degli ultimi aggiornamenti dove praticamente hanno aggiunto anche ah qua dovremmo poterlo ruotare si aggiungere quelle cose che in in my summer car non riuscivo mai a fare che era la sincronizzazione dei pistoni insomma quindi niente se io premo questo tasto fa esplodere tutto in realtà lo fa sulla macchina si praticamente quando voi vedete esco dal tutorial stop il tutorial vedete che qua c'è la macchina che noi possiamo andare poi la macchina che poi in teoria useranno per le gare completamente smontata vedete potete poi andare a svitare aggiungere olio svitare ogni singola vite di questo motore con questo che è una cosa che cosa cacchio è questo hyperbot beh il gioco senz'altro promette tantissimo cioè guardate quante componenti vengono fuori tra le vite tutte e credo che non sia neanche un decimo di quello che c'è dentro un motore però guardate la cura il fatto che comunque adesso possiamo metterci qua in una notte ce lo rimontiamo rimontiamo tutta la macchina avvitando tutto ovviamente è un gioco di nicchia non di nicchia di nicchissima lo trovate a circa 16 euro su stima e promette veramente bene perché gli sviluppatori lo stanno portando avanti molto bene ed è un gioco per appassionati di motori che vogliono star lì e smanettare perché a confronto comunque Mechanic Simulator è un gioco per bambini dell'asilo insomma questo lo sapete anche voi lo sa anche chi l'ha provato è bello entusiasmante ma il bello qua è c'è un problema ok avremo tutti i software anche di diagnostica ho visto quindi si può andare veramente a fare di tutto andare anche a comprare tutte le parti hanno un costo è un gioco che comunque se lo prendete adesso ci giocate un po' fate i tutorial vi divertite e poi magari che so escono aggiornamenti lo giocate lo lasciate lì qualche mese e quando raggiungerà la fine sarà un gioco pazzesco aggiungeranno anche il multiplayer oltre che i trofei sfide meccaniche il tuning del motore delle sospensioni fino alle classi di gare che arriveranno già a fine di quest'anno le aste le discariche mamma mia quanta roba c'è quanta anche le decorazioni espansione del catalogo gli scaffali metteranno le scatole veramente c'è veramente di tutto questo era Vrench fatemi sapere che cosa ne pensate come al solito e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi ciao 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 ciao